Musica Amici telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Quest'oggi in apertura al nostro telegiornale Cava dei Tirreni. Non ci sono topi nella scuola secondaria di primo grado Balzico di Cava. Il primo cittadino, Servalli, rassicura le famiglie dopo la segnalazione arrivata da Marcello Murolo, portavoce del movimento civico Siamo Cavesi. Vediamo il servizio di Danila Raimondi. Nessun problema di topi, solo allarme ingiustificati che hanno creato inutili preoccupazioni. Risponde così il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, alle accuse rivolte all'amministrazione comunale da parte di Marcello Murolo, portavoce del movimento civico Siamo Cavesi, il quale ieri mattina ha segnalato la raccapricciante presenza di roditori all'interno della scuola secondaria di primo grado Balzico. Dopo l'episodio accaduto presso la scuola di Via Alessandro della Corte, in località Pianesi qualche settimana fa, segnalato dal dirigente sanitario dell'ASL Giovanni Baldi, che ha portato alla sospensione delle elezioni, poi ripristinate, a causa della possibile presenza di piccoli roditori, Murolo, nel suo intervento postato sui canali social del movimento, ha riferito di topi inseguiti nei corridoi da bidelli armati di scope ed anche di espliciti inviti a non aprire le finestre per evitare l'ingresso dei piccoli ospiti nelle aule della scuola media. Negli ultimi giorni, continua il portavoce di Siamo Cavesi, i racconti di molti cittadini mi hanno descritto queste scene che sembrano uscite da un libro di Dickens, che racconta una realtà di ormai quasi 200 anni fa. Il post poi si conclude con l'invito rivolto al primo cittadino metelliano di verificare immediatamente la qualità delle strutture scolastiche in termini di salute e benessere, al fine di tutelare chi ne usufruisce. Dal canto suo, il sindaco Servalli, con tanto di foto a seguito, questa mattina ha rassicurato le famiglie. Non ci sono topi nell'istituto. Siamo alla cronaca. Una donna di Salerno, in collaborazione con un complice, ha messo a segno un furto a casa di una coppia di anziani presso cui aveva lavorato come badante. I due furfanti sono stati arrestati dai carabinieri. Sono entrati in azione sabato mattina a minori per mettere a segno un colpo in casa di una coppia di anziani. Si tratta di un uomo di Baronissi e di una donna di Salerno, badante di professione, che fino a qualche giorno prima del colpo aveva lavorato proprio a casa delle vittime del furto. I due furfanti, entrambi pregiudicati, camuffati con tute e cappellino, approfittando dell'assenza dell'anziano marito che si era diretto alle poste e della condizione inerme dell'anziana donna allettata, hanno forzato la porta d'ingresso dell'appartamento situato in pieno centro ed hanno rapidamente trovato un cofanetto contenente soldi contanti, buoni fruttiferi, monili d'oro per un valore ancora da stimare ma non inferiore a 15-20 mila euro per poi darsi alla fuga in atto. Il marito rientrato a casa dopo alcune ore ha lanciato l'allarme. Sul posto sono prontamente accorsi i carabinieri che hanno avviato le ricerche. Le immagini delle telecamere di sorveglianza comunali e degli esercizi commerciali presenti in zona hanno consentito di identificare anche grazie alle informazioni fornite dai familiari delle vittime i presunti colpevoli sulle cui tracce si sono prontamente messi i militari che le hanno intercettati nei pressi di un'abitazione di Salerno. Presso qui la badante stava da poco svolgendo la sua attività lavorativa. Dopodiché le hanno sottoposti a perquisizione personale, domiciliare e veicolare rimanendo solo parte della rifurtiva pari a 3.500 euro. I due poi sono stati condotti in caserma a Maiori e dichiarati in arresto. Ed eccoci ai trasporti. In maniera un po' inaspettata la Bus Italia Campania ha annunciato oggi che gli autisti in servizio all'azienda sono in sciopero. La stensione, che sarà destinata a causare disagi alla clientela, è stata decisa per la segnalazione di presunti guasti ai mezzi di trasporto. Quindi si stanno effettuando verifiche tecniche e di conseguenza numerose corse sono state cancellate. La Bus Italia Campania, tramite una nota stampa, critica i suoi stessi autisti e dichiara di ritenere la protesta immotivata e pretestuosa, scusandosi con i pendolari che saranno tempestivamente informati del ritorno alla normalità del servizio di trasporto passeggeri. Gli appuntamenti organizzati a Cava dei Tirreni in occasione della Festa della Repubblica sono culminati ieri con l'evento Una notte per la Costituzione, caratterizzato da momenti teatrali, musicali e di conversazione. Scopriamone di più nel servizio che segue. È stata una festa della Repubblica densa di appuntamenti, quella che ha vissuto la città di Cava dei Tirreni. Le celebrazioni, che sono entrate nel vivo venerdì 31 maggio con la solenne cerimonia dell'Alza Bandiere in Piazza Abbro, sono proseguite ieri mattina con la deposizione di una corona dall'oro innanzi al monumento ai caduti di tutte le guerre e sono poi culminate in serata con l'evento Una notte per la Costituzione. La manifestazione ha fatto registrare una grande partecipazione di pubblico e di piccoli artisti speciali, ossia gli alunni degli istituti scolastici della città che hanno presentato frammenti di progetti spettacolo realizzati sul tema della Costituzione, della legalità e dell'inclusione. Tra le tante personalità intervenute il dottor Francesco Pinto, direttore del Centro di Produzione Televisiva della RAI di Napoli, il dottor Vincenzo Senatore, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, Gino Aveta, storico grande autore RAI, e Ferdinando Pinto dell'Università di Napoli. Dunque sono stati estremamente positivi riscontri e grandi apprezzamenti della manifestazione ideata dall'assessore alla cultura del comune metelliano, Armando Lamberti. Una bellissima manifestazione con una grandissima partecipazione sia di artisti speciali, cioè gli alunni delle scuole della nostra città e poi ovviamente anche altri artisti ospiti della nostra città e in particolare poi con una partecipazione di pubblico che per la prima volta è stata registrata nel nostro palazzo di città. Quindi la città ha risposto con grande attenzione a questa nostra idea di voler contribuire a diffondere la conoscenza della nostra carta costituzionale soprattutto tra le nuove generazioni. Abbiamo già in una riunione del 29 maggio con tutti i dirigenti abbiamo già proposto come amministrazione la calendarizzazione di questa manifestazione e quindi l'anno prossimo sicuramente viene riproposta e abbiamo chiesto ai dirigenti di lavorare durante l'anno scolastico 2019-2020 sul progetto Costituzione e Legalità e al termine e al termine dell'anno scolastico far confluire tutti i risultati del lavoro su questo progetto all'interno di una due giorni primo giugno due giugno che sicuramente insomma sarà ancora più bella emozionante e coinvolgente di quella che quest'anno abbiamo vissuto. Salerno il sindaco Vincenzo Napoli ha dato il via ai lavori stamattina per la riqualificazione dei siti occupati da prefabbricati in via Postiglione e altre aree del quartiere Ogliara è probabilmente tra gli interventi previsti dal bando per le periferie il programma di interventi nazionali che a Salerno si è concentrato sui rioni collinari il più atteso dai residenti la demolizione dei prefabbricati situati in via Postiglione ed in altre aree del quartiere di Ogliara oggi il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli con l'assessore all'urbanistica Mimmo De Maio ha ufficialmente avviato i lavori il programma completo prevede anche la realizzazione di una struttura polifunzionale con attrezzature sportive verde e parcheggi ci sarà poi la riqualificazione del sottopiazza di Ogliara dove verrà anche realizzato un giardino attrezzato e anche qui un parco giochi il cantiere poi prevede il rifacimento del sagrato della chiesa di Ogliara la manutenzione e rifacimento della piazza antistante il museo della ceramica ed infine anche la realizzazione di marciapiedi e del sistema fognario di via Ogliara siamo stati i primi a presentare questi progetti e siamo stati in grado poi di mantenere il finanziamento perché il governo successivo ha fatto delle operazioni discutibili su questi finanziamenti dati dal governo precedente e la cosa grave è che hanno tolto finanziamenti alle periferie noi ci battiamo affinché le periferie non abbiano più un ruolo marginale ma siano pienamente integrate nel testo urbano la città di Salerno come Mimmo De Maio assessore all'urbanistica potrà subito dopo dire è una città che possiamo definire policentrica la diffusione del cosiddetto effetto città investe un po' la città nel suo complesso questo è un progetto importante l'architetto giudice l'ha curato con attenzione riguarda alcuni poli di riqualificazione intanto liberiamo come già abbiamo fatto dai residui dei prefabbricati post terremoto che vedete qui alle nostre spalle contorti dalle fiamme e faremo delle opere di bonifica di riqualificazione urbana dando delle strutture per l'accoglienza per il tempo libero e riqualificando anche il museo della ceramica che fa parte di questo comprensorio a valle la storica piazza d'Ogliara sarà completata con un'azione nella parte sottostante su questo devo dare atto alle comunità locali alla Proloco di svolgere un'azione di propulsione importante e di grande collaborazione noi affidiamo a loro questa speranza e facciamo in modo che queste opere siano considerate da cittadini come cosa loro come qualche cosa di profonda appartenenza il sesto cantiere è proprio in questo cantiere di Ogliara ci sono sei interventi tra di loro chiaramente correlati a partire dalla demolizione dei prefabbricati e la conseguente riqualificazione dell'area libera che si determinerà con un'importante struttura sportiva soprattutto a servizio dell'istituto scolastico che è priva di palestra per poi passare al spazio antistante del museo città creativa al sottopiazza di Ogliara alla sistemazione che risponde alle esigenze di sicurezza di tutto l'asse viario che attraverso il centro abitato e nel contempo approfittiamo di questa opportunità anche per sistemare il sistema di sottoservizi quindi un intervento a 360 gradi che riqualifica e rilancia i ruoli dei rioni collinari ancora cronaca vandali in azione presso la piscina comunale Poseidone di Capaccio i balordi hanno danneggiato interni di alcuni locali della struttura vediamo vandali in azione all'interno della piscina comunale Poseidone di Capaccio Pestum dopo aver forzato una porta d'ingresso infatti i gnoti balordi hanno divelto diversi estintori in dotazione all'impianto riversandoli completamente e gettandoli in una delle vasche danneggiando gli interni di alcuni locali ad avvertire strani rumori nell'impianto natatorio sono stati dei residenti della zona che hanno subito allertato le forze dell'ordine sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri della compagnia di Agropoli coordinati dal capitano Francesco Manna che ora indagano sull'accaduto rilievi sul posto eseguiti dalla dipendente aliquota radiomobile diretta dal maresciallo Carmine Perillo il cui rapido arrivo ha probabilmente innescato la fuga dei malfattori la portata dei danni un raid che sortisce sdegno avvenuto in piena campagna elettorale per il ballottaggio nella città dei templi addensando spiacevoli ombre sulla natura dell'atto vandalico ai danni del complesso chiuso da diversi mesi a causa di problemi di sicurezza legati a criticità strutturali e al centro dei programmi elettorali dei candidati in lizza che ne promettono la riapertura in tempi brevi e questa mattina operai della Paistom hanno scoperto danni anche nella palestra comunale dove probabilmente gli stessi valordi hanno svuotato gli estintori riversando la polvere ignifuga sul campo sport calcio Francesco Moriero resta il candidato più autorevole al momento per la panchina della Cavese a giorni ci saranno novità pochi giorni e la Cavese avrà il nuovo allenatore per la stagione di serie C 2019-2020 la vacazio tecnica scaturita a seguito della risoluzione contrattuale con Giacomo Modica sembra destinata a durare solo una settimana scarsa il mister che potrebbe rilevare forse già da questi giorni il compito di Modica è Francesco Moriero che si è incontrato con la proprietà metelliana dunque se dovessero esserci progressi arriverà anche la conseguente ufficialità Moriero ex tecnico di San Benedettese e Crotone che ha lavorato anche in Africa e in Svizzera nelle annate scorse sarebbe quindi in poll rispetto ad altri profili che erano quelli di Domenico Zito e di Francesco Monaco più avanti arriverebbe invece l'ufficialità del direttore sportivo che sostituirà Pavone alla Cavese si tratterà di Francesco Lamazza il quale si insedierà ufficialmente il mese prossimo cioè dopo la scadenza del contratto con la San Benedettese anche se di fatto potrebbe aver individuato lui l'allenatore giusto per la successione di Modica partiranno comunque a breve anche i discorsi per quanto riguarda i calciatori in casa metelliana ce ne sono pochi che hanno contratti pluriennali come Nunziante come Hitley LIA e Sainz Massa parecchi altri sono invece in scadenza a giugno e resta da capire quanti avranno le possibilità per rinnovare altre DC resta in corsa solo il Trapani tra le squadre del girone C che si erano qualificate per i playoff dopo il 2 a 2 dell'andata al Cibali ieri sera la formazione Granata ha eliminato il Catania pareggiando 1 a 1 in casa Togurdo e Curiale i marcatori e a Trapani la formazione Etnea di Mister Sottil ha finito in 8 contro 11 per le espulsioni di Esposito Biagianti e Calapai i Rossoazzurri con il loro direttore Lomonaco hanno contestato l'eccessiva severità dell'arbitro i Trapanesi contenderanno al Piacenza un posto in Serie B così come farà il Pisa al cospetto della Triestina per un altro posto invece l'andata dei playoff intergirone disputata a Lucca ha visto il Bisceglie perdere 1 a 0 con la Lucchese gol di Sorrentino la gara di ritorno sarà disputata sabato a Bisceglie la compagine che nel doppio confronto avrà segnato più gol sarà salva dalla retrocessione in D e prima di andare avanti con il prossimo servizio vi diamo conto di qualche ufficializzazione che ci è giunta pochi minuti fa in redazione infatti la Cavese rende noto di aver sottoscritto un preliminare d'accordo in vigore dal primo luglio 2019 con Francesco Lamazza per il ruolo di direttore sportivo Lamazza tra le sue esperienze pregresse come DS ha maturato quelle a Busto Arsizio con la Propatria al Lecco con la Pro Sesto con il Messina e con la San Benedettese e contestualmente la società della Cavese ha ufficializzato la firma di Francesco Moriero come nuovo allenatore subentra a Giacomo Modica che la scorsa settimana ha rescisso il contratto in maniera consensuale con il club metelliano andiamo avanti con la scherma c'è stata ieri mattina a Salerno la prima rassegna Fencing for Family organizzata dal club scherma Salerno con la sezione Cava dei Tirreni presente si è svolta ieri mattina la rassegna Fencing for Family a Salerno presso la palestra del club scherma Salerno in via Lauro Grutto per segnare la conclusione della stagione schermistica del club è stata la prima edizione del torneo che ha visto partecipare le coppie composte dai giovani under 14 iscritti alla sezione Cava dei Tirreni e dai loro genitori in pratica ogni famiglia schierava in pedana il proprio figlio o figlia e uno dei due genitori era previsto un giro reunico alle 10 stoccate con sfide figlio contro figlio senza distinzione di genere impegnati in astalti a 5 stoccate e sfide genitore contro genitore fino alle 10 stoccate hanno partecipato 9 famiglie ricevute in palestra dal presidente del club scherma Salerno Valerio Apolito e la vittoria è andata alla famiglia Pecoraro premiata dalla campionessa di sciabola Rossella Gregorio premiati anche i giovanissimi atleti della sezione Vincenzo Didato e Sara Pendenza ai quali sono state consegnate le targhe come best fencers of the year perché hanno fatto registrare i miglioramenti più notevoli nella stagione appena conclusa inoltre una targa è stata data dal direttore tecnico Rosanna Pagano agli sponsor a titolo di ringraziamento e la stessa Pagano ha consegnato un premio anche all'addetto stampa della sezione Cava dei Tirreni Orlando Savarese non abbiamo altri aggiornamenti il nostro telegiornale termina qui l'informazione di RTC Quarta Rete ritorna alle prossime edizioni grazie per la cortesi attenzione buon proseguimento di giornata con i nostri programmi Grazie a tutti